E' fondamentale riconfermare la buona amministrazione di Gorizia dando un passaggio, una stretta di mano fra il sindaco uscente e il sindaco entrante, se ci avete fatto caso le grandi televisioni non stanno dicendo nulla del voto di domenica, perché Renzi sa che prende una mazzata e poi mi prendo un impegno con la Lega, con il sindaco e con la città di Gorizia, se fate quello che penso farete, io il 24 settembre, soprattutto se ci sono le elezioni politiche, vengo a festeggiare per i gusti di frontiera a Gorizia. Viva la Lega, viva la Lega, viva la Lega e prima la metterà sempre e sempre con noi.